Musica Ciao a tutti ragazzi, sono Peppi, sono oggi un nuovo video sul canale Clonagio qui per portarvi una DNA Bomb su CDM fatta in 2 minuti e 7 secondi, in 127 secondi appunto su Instinct, appunto su CDM, la nostra Rise Shocks è un gameplay abbastanza carino da vedere perché Instinct è una mappa abbastanza grande e spaziosa quindi è un gameplay abbastanza frenetico per essere una mappa così è appunto un gameplay non tanto assurdo, comunque un gameplay sottofondo oggi appunto il gameplay dura poco, quindi non ho un vero e proprio argomento più che altro voglio fare una domanda cosa pensate, cioè cosa pensate che cambierà su YouTube tra 4-5 anni? come si è evoluto YouTube appunto in questi ultimi 4-5 anni già da affatto dei giochi che si trattavano, dalle qualità video, dalle qualità dei vlog, della registrazione e il gameplay perché infatti prima ragazzi i gameplay venivano tutti registrati con i cellulari adesso abbiamo tutti e quasi tutte le schede d'acquisizione che è la registrazione in HD quindi fatemi sapere se secondo voi tra 4-5 anni ci sarà ancora YouTube se si trasformerà in un vero e proprio lavoro oppure continuerà a essere ancora trattato come un hobby che secondo me è una cosa da non sottovalutare perché ragazzi molti dei big che ci stanno soprattutto nella community italiana ma anche nelle community americane ormai riescono addirittura a comprare civile, case, macchine solo grazie a YouTube quindi secondo me se YouTube va preso sul serio e va portato avanti come un hobby inizialmente però comunque poi col tempo può anche diventare un lavoro secondo me non farebbe male anche all'economia perché è un lavoro che comunque rende bene a quando dicono questi grandi YouTuber se appunto seguire un sogno e giocare alla Play diciamo è un hobby che può diventare un lavoro che ti può pagare e ti puoi anche permettere di non lavorare e stare solamente su YouTube ecco secondo me è una cosa molto molto comoda quindi fatemi sapere cosa ne pensate cosa secondo voi come cambierà YouTube tra 4 o 5 anni e ci becchiamo ad un prossimo video se vi volete passate dal mio canale passate al canale di Shox e ci becchiamo ad un prossimo video bella venata iscriviti al canale e ci becchiamo ad un prossimo video